guardate di qua guardate qua adesso ok grazie ci siete tutti? grazie 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 dott Doing Appla DAY grazie grazie mar tummy grazie 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 capito la pasta del sport absolutely grazie grazie il fenomeno i genitori la dirigente scolastica dottoressa Marisa Maisano dell'istituto comprensivo Telesimo Montalberti per questa bellissima performance veramente molto bella bravi questa è la scuola che accoglie questa è la scuola che include questa è la scuola che fa sentire i nostri bambini e le nostre bambine in sereni tranquilli in un contesto di accoglienza grazie collega Maisano grazie per questo bellissimo momento che stiamo vivendo qui nella migliore piazza la più importante piazza di Reggio Calabria Piazza Italia grazie colleghi, grazie Marisa grazie a voi buongiorno a tutti mi associo ai complimenti della mia collega Diana e ringrazio i professori perché anche loro sono i professori che sono in costume in questo momento e da insegnante siamo sempre pronti con i nostri ragazzi grazie e forti saluti del sindaco che in questo momento si scusa ma è impegnato con una importante riunione a Palazzo San Giorgio però sarà occasione di vederci grazie ancora grazie grazie a tutti i bambini grazie ai genitori per la collaborazione grazie ai laboratori scolastici grazie alle maestre e ai bambini ci vediamo all'inaugurazione sì un bel sorriso grazie bene tagliati il nastro per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2018-2019 Reggio Calabria 26 ottobre 2018 teatro Cidea grazie a tutti